Mi prendo solo due minuti per provare ad analizzare Atalanta Arsenal 0-0, veramente poca cosa, una partita brutta, una partita senza ulteriori scossoni, nel primo tempo, veramente sharp, ritmi bassi, nel secondo tempo rete di sbaglio rigore, quadrato, sfigura il gol del giovedì, la palla non si abbassa in tempo, Martinelli si mangia un gol, veramente poco, a livello tecnico poco, ma analisi non si può fare un'analisi, un pareggio che potrebbe andare bene per l'Atalanta, però brutta partita, brutta partita nel complesso e non so neanche che la si vicarica in questa partita, veramente, mi aspettavo qualcosa di più da entrambe le squadre, e nonostante io abbia visto diretta gol, però, cioè, non penso sia stata una gran partita, perché veramente poche occasioni, poi rigore, un po' dubbio, però si poteva anche dare, ma Raja, Raja intuisce e para, e poi sulla respinta, sul colpo di testa, sempre direte che secondo me, se ricordo bene, fa parata sulla linea, complimenti a David Raja, che ha salvato l'Arsenal, nell'unica vera occasione dell'Atalanta, questo è, pareggio scialbo, partita scialba, partita povera di occasioni, partita povera di un'analisi, non si può fare un'analisi approfondita, ragazzi, detto questo, sono passati due minuti, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, 0 a 0, bruttissimo, bruttissimo, ci sono degli 0 a 0 bellissimi, ma ci sono anche 0 a 0 bruttissimi, come quello di stasera, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, qui da me è tutto, buonanotte, e niente, Atalanta, 0, Arsenal, 0, bella.